Un furto, un delitto, una donna misteriosa. Ma chi è? Perché scuolire adesso? Che cosa non ti convince? È tutto troppo facile. Ci vuole naso. Avete dei testimoni? Anzi, fiuto. Come è morto, Stella? Appena è nato. Ex ispettore ora in pensione. Casi in cerca di soluzione. Ecco serviti i delitti del cuoco. Con Bud Spencer. Stasera alle 21.30 su Canale 5.